Aia, ecco qua, pampini, siamo arrivati a Terni, siamo arrivati con i dinosauri, dinosauri vivi, pampini, dinosauri grandi, piccoli, abbiamo T-Rex, abbiamo velocizato il fantastico tricerataco e dei splendidi cuccioli, ma tutti vivi, pampini. Ah, voi non credete che noi portatevi i dinosauri vivi? Io adesso farò incontrare il piccolo cucciolo di T-Rex, piccolo cucciolo, venire qua, venire, venire, aia, ecco bambini, lui è essere piccolo cucciolo di T-Rex, lui vivo, velo tu vivo, aia, bambini, lui da tuo nome, lui chiamare Citrullone, bambini, lui è essere intelligente, guardare, tu dare il bacino, e il bacino? Wow, bello, io vorrei tanto bene, ah, bambini, io adesso farò un'altra domanda, molto, scusate, bambini, cascato cappello, io non provare cappello, dov'è essere il mio cappello, io non vedo, ah, bambini, lui è rubato cappello, ah, lui è simpaticone, tu però adesso, tu dare cappello a me, capi, no, ho detto, tu dare cappello, dai cappello a me, lui pare sempre dispetti, bambini, dai cappello, Basta giocare, perdonare del bacino, uh, bello, allora, bambini, io dicevo, adesso, ah, no, 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 ho compreso, ho compreso il cappello mio, vero, sì, cascato cappello, sei stato dopo anche a te del cappello, va bene, sì, cascato cappello, va bene, bambini, prendo io cappello, scusate, allora, dai, dai, bene, basta, ma tu avere fame? Bambini, avere fame, tu che c'hai grande bistecca? Allora, bambini, io mandare al ristorante e comprare grande bistecca, tu non mordere me però, va bene? Allora, bambini, salutiamo, ciao piccolino, ciao, 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 tu fatto male, vai via, vai via, capito? Vai via, ci vediamo con i bambini, invita i bambini al teatro, via, ci aspettiamo in teatro, ciao, ciao, Ah, bambini, allora vi aspettiamo a Terni, domenica 25, al teatro Secci, con tre spettacoli, ore 11, ore 15 e 30 e ore 17 e 45, mi raccomando, prenotate, il numero è 366 9590150, vi aspettiamo, i dinosauri sono vivi! Ciao, ciao, bambini!